Sindaco, alcuni giornali oggi rilanciano la possibilità che le possa fare un rimpasto a tempi brevi. Un autorevole quotidiano cittadino ha parlato di 5 nuovi ingressi in giunta. Per quanto mi riguarda di 5 persone in giunta, forse c'è qualcuno che si vuole candidare a fare il sindaco di Napoli per il 2021 e sta facendo il programma politico elettorale al sindaco. Io non ho bisogno di queste indicazioni, non ho bisogno di queste notizie completamente inventate, soprattutto non ne ha bisogno la città, non è rispettoso nei confronti degli assessori che stanno lavorando, hanno lavorato anche a Natale e sentirsi scrivere che ci sono 5 assessori quando è una balla clamorosa. Io vorrei capire queste persone da dove cacciano queste notizie perché se no si è assumessa la responsabilità di dire che un pensiero autonomo di un giornalista che dice sarebbe più bello dire secondo me il comune di Napoli per migliorare dovrebbe il sindaco azzerare la giunta, cambiare 5 assessori. Ma mettere come se fosse un'intenzione in fieri del sindaco di cambiare 5 assessori è una cosa che non fa onore a chi scrive, non fa onore soprattutto a un'opinione che ha un fatto che è totalmente falso. E mi dispiace perché crea semplicemente una fibrillazione nei confronti di una giunta che sta facendo un lavoro complicato. Altra cosa, l'ho sempre detto, che si dovranno fare degli interventi anche in giunta che probabilmente li faremo nei tempi che saranno necessari ma non sono queste. Nelle proporzioni, nelle modalità con cui si va a fare non un rimpasto ma un rafforzamento nell'ambito di un'assoluta condivisione perché quello che sta caratterizzando il momento storico della nostra città è che siamo una grande squadra. Quindi ogni scelta, anche se dovesse riguardare uno o due assessori, sarà qualcosa che sarà condiviso tra tutti, un percorso condiviso con la maggioranza, con la giunta, con le forze politiche, con tutti quelli che ci sostengono e quindi credo che questo è il metodo che bisogna seguire. Poi se qualcuno ci vuole dare qualche consiglio, qualche suggerimento, ci vuole indicare qualche maradona della politica che si vuole assumere insieme a noi l'onore e l'onere di guidare la città, bene, però leggere ogni giorno una serie di cose che sono completamente inventate pregherei semplicemente a chi le scrive di attribuirsela a se stesso ma non ha un pensiero interno all'amministrazione perché siccome mi pare che il sindaco è stato eletto si chiama Luigi De Magistris e Luigi De Magistris non ha nessuna intenzione di cambiare cinque assessori della sua giunta. Spero di aver messo un punto definitivo su una polemica, su una ricostruzione che francamente facendo il giro d'Italia non fa onore a chi la scrive.